Allora in questa missione, chiamata Team Ghost, il trofeo da prendere si chiama La pratica rende perfetti, si tratta di colpire tutti i bersagli nell'area di addestramento Vediamo in che modo Eccoci Eccoci giunti al campo di addestramento Guardati intorno, reggente, dovrebbe esserci del C-4, provalo Dovevi scappare da strada per l'inferno, ti ho detto di tornarti Pagherai con la vita Guardati intorno, reggente, dovrebbe esserci del C-4, provalo Tu e il tuo cazzo di uscire i giorni Ed ecco qua, abbiamo appena completato il trofeo, la pratica rende perfetti Passiamo alla prossima Nella prossima missione, nominata a conto alla rovescia Dovremo sbloccare un trofeo Di nome Sarà Stato il Vento In cui dovremo soccorrere gli ostaggi Senza che i nemici sparino neanche un colpo Vediamo come Riposizionati se devi Libero Bravo 3, 55esimo al sicuro 4 nemici più avanti 3 nella stanza, 1 nel corridoio Libero Ancora uno Ricevuto In posizione sull'obiettivo 5 nemici al prossimo piano 3 in movimento, 2 fermi Ingaggia dopo la conferma visiva Ce ne sono 5 3 in movimento con un ostaggio 5 nemici più avanti Si, non ci sono ecco fatto sbloccato il trofeo livello veterano